Una tragica notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo nelle ultime ore, con la scomparsa di un'attrice e conduttrice che aveva anche legami con il mondo dello sport. Secondo quanto riportato da America TV, la donna è deceduta in circostanze tragiche dopo un intervento chirurgico. La causa del suo decesso è stata identificata come insufficienza renale acuta, un evento devastante che ha scosso profondamente il web e l'opinione pubblica. La donna, che era anche attiva come modella, aveva subito un intervento estetico nel 2011, che inizialmente sembrava essere andato a buon fine. Tuttavia, le conseguenze negative di questa procedura si sono manifestate solo diversi anni dopo, quando ha cominciato ad avere problemi ai reni. La situazione si è deteriorata al punto da farla mettere in lista per un trapianto, ma durante l'attesa ha contratto un pericoloso batterio che le ha causato una grave infezione. Questo episodio l'ha costretta a trascorrere ben due mesi e mezzo in un ospedale. Nelle ultime ore, purtroppo, il suo organismo ha collassato e ha smesso di funzionare. Secondo le indagini condotte dalle autorità competenti, si è scoperto che l'attrice e modella è stata vittima di un eccesso di metacrilato, una sostanza non autorizzata dall'Agenzia del Farmaco, che le era stata iniettata da un noto chirurgo estetico dei famosi, Hannibal Lottocchi. A perdere la vita a soli 43 anni è stata Silvina Luna, un'attrice e modella argentina, nota anche per essere stata la fidanzata del calciatore Daniel Osvaldo, che ha giocato per squadre come Juventus, Inter, Roma, Fiorentina, Bologna, Lecce e Atalanta in Italia. La carriera di Silvina Luna nel mondo dello spettacolo è iniziata con la sua partecipazione al grande fratello del suo paese d'origine nel 2001. Da allora, ha accumulato diverse esperienze come conduttrice televisiva e impegni teatrali, consolidando la sua presenza nel mondo dell'intrattenimento. La sua prematura scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per l'industria dello spettacolo e per tutti coloro che l'avevano conosciuta e ammirata nel corso degli anni. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.